Lei torna nuovamente alla Magna Grecia Film Festival, investe però quest'anno di giurato. Lei in conferenza stampa ha spiegato che l'entusiasmo e la passione che si respirano mi hanno indotto a fare un salto a Montepaone. L'anno scorso è stato un momento molto coinvolgente perché c'è grande entusiasmo intorno ai film, le persone che ci lavorano intorno lo fanno in positivo cercando di farli vedere, di farli esistere. Chi viene con i film trova pubblico, trova persone eccetera, quindi c'è un clima di entusiasmo rispetto al cinema italiano e viva Dio è una cosa importante per tutti noi. Quindi stravolentieri sono ritornato, stravolentieri sono qua per partecipare a questo evento che è un evento che permette di far vedere dei film che hanno difficoltà a essere visti. Se si può dare una mano a questo nostro cinema gliela diamo. Se si può fare il Magna Grecia Film Festival lo fa e quindi bisogna dare una mano anche al festival. Diversi film di qualità, tante le pellicole che fanno discutere, la scelta non sarà affatto facile? No, non è facile perché sono tutti film che hanno avuto già in quest'anno notevoli riconoscimenti di critica, di premi. Cioè voglio dire, già l'anno scorso l'avevo notato, ma anche quest'anno si ripete, abbiamo un gruppo di film italiani giovani che bisogna sostenere perché ci sono dei talenti, attori, scrittori, sceneggisti. Insomma mi fa pensare bene nonostante la crisi. Un gradito ritorno quello di Domenico Fortunato, quest'anno porta il film Cento metri dal paradiso di Raffaele Verzillo, interpreta la parte della protagonista, Monsignor Angelo Paolini, che ad un certo punto incontrando un amico, lui è sempre impegnato, cerca di svecchiare l'immagine della chiesa, incontrando questo amico dunque gli si accende una scintilla. Che cosa combina? Monsignor Paolini decide che deve portare il Vaticano e le Olimpiadi. Decide proprio, siamo in perfetto clima olimpico adesso, e succede questo, che c'è un ragazzo, figlio di un carissimo amico di Paolini, che fa i cento metri in dieci netti e dà il tempo della finale olimpica, si qualifica per le Olimpiadi. Se non che questo ragazzo ha la vocazione e vuole farsi prete, vuole diventare frate. Suo padre, con vecchio compagno della scuola di Paolini, si arrabbia, non vuole che questo ragazzo diventi frate. E quindi va in Vaticano da Monsignor Paolini e dice che tu devi convincerlo a non farsi prete. E in pratica che succede? Paolini dice che no, io non posso, questo ragazzo ha la vocazione, ha la vocazione vera, che è una cosa rara, e quindi bisogna assolutamente che segua questa vocazione. E' suo padre, che è un vecchio compagno di scuola di Monsignor Paolini, un amico di infanzia, che fa, si arrabbia pure con Paolini. E quindi nasce questo conflitto, fa padre, figlio, amici, eccetera, eccetera. Dopodiché Paolini ha un'illuminazione, decide che questo ragazzo può correre, ma può anche farsi prete. Perché? Perché decide di mettere in piedi la squadra olimpica del Vaticano. Mi fermo qui, non vi dico che cosa succede, che cosa penseranno i cardinali poi in alto loco di questa cosa, perché non la vedranno bene. Ma Paolini, imperterrito di nascosto, genera il mondo per cercare preti e suori ex atleti. E' una bellissima commedia, è divertente, venitela a vedere, io sono felicissimo di averla interpretata. Sta riscuotendo molto successo, è ancora nelle sale, è ancora nelle arene. Sono felicissimo di essere tornato qui al Magna Grecia Film Festival, quest'anno qui a Montepaone. E' la quarta volta che vengo qui. Ci siamo trovati sempre bene, è andata bene, sono contento quando arrivo qui, ritrovo Gianvito Casadonte, tanti amici, tante belle persone. Si mangia benissimo, insomma io mi trasferirei, insomma. Se non mi fanno più girare, io posso anche mettere la residenza da queste parti, insomma. Tornando al film, non è dunque una pellicola che si sofferma sulle gerarchie ecclesiastiche, su misteri vaticani, ma appunto alla sua attenzione sull'uomo, sul suo disagio, sui suoi problemi. Ma lo fa con tono leggero? Sì, è un film che mette in luce altre cose della Chiesa. La comunicazione, l'amore per lo sport, l'amore per il prossimo, si parla delle missioni, cioè di tutta quella parte positiva. Un monsignore che ci ha aiutati, che è stato consulente mio in particolare per questo film, Don Giulio della Vite, della congregazione per i Vescovi, ha detto in conferenza stampa a Roma, quando è uscito il film, ha detto che la Chiesa, quando si leggono i giornali in questo periodo, ha anche sicuramente delle parti oscure, delle parti che non vengono a luce, ma dice che questo film rappresenta un muro pieno di luce, rappresenta una cosa bella. Quindi riporto le parole di un ecclesiastico, insomma. Grazie. 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 Grazie.